Io e la collega Roberta Di Stefani che facciamo parte nello specifico di due diversi gruppi consigliari di minoranza all'interno del Comune di Tavuglia abbiamo presentato lo scorso 2 di gennaio un documento contenente una serie di osservazioni di carattere tecnico ambientale e anche considerazioni politiche dato il ruolo che ci compete alla provincia e abbiamo ritenuto di farlo doverosamente per coerenza insomma coerentemente col deliberato del Consiglio Comunale di Tavuglia nella seduta dello scorso 22 di dicembre si sono discusse infatti due diverse emozioni una da noi presentata e una presentata da tre colleghe di maggioranza tutte e due sul tema biodigestore e per tutte e due il Consiglio ha votato all'unanimità la contrarietà alla realizzazione del biodigestore in località Talacchio di Vallefoglia ci aspettavamo insomma che queste due delibere avessero un seguito quindi una presa di posizione ci aspettavamo da parte dell'amministrazione comunale di essere coinvolte nella stesura di un documento congiunto tra minoranze e opposizione abbiamo aspettato fino all'ultimo giorno utile non essendo stato contattate da nessuno abbiamo proceduto insomma per conto nostro con questo con la presentazione di questo documento abbiamo voluto sottolineare due cose da un lato la grave inadempienza di un organo che è l'ATA che avrebbe dovuto insomma per quelle che sono le sue competenze che è stata creata appositamente per uno scopo cioè redigere e approvare un piano d'ambito che avrebbe dovuto contenere quelle che sono gli opportuni indirizzi per la localizzazione ma anche per la gestione integrata dei rifiuti nella nostra provincia e l'inadempienza di ATA ha di fatto prodotto un vuoto che è stato diciamo così riempito dall'iniziativa privata che ha potuto tra virgolette agire indisturbata e presentare un progetto come quello che ha presentato che è diciamo palesemente sovradimensionato rispetto a quelle che sono le esigenze di smaltimento reali della nostra provincia perché a fronte di una produzione annua di intorno ai 60.000 tonnellate di rifiuti della frazione organica qui si sta progettando che si vuole costruire un impianto con una capienza di 105.000 tonnellate quindi è evidente in questo caso che per il soggetto gestore i rifiuti diventano una necessità, una risorsa e che per far lavorare questo impianto a pieno regime i rifiuti saranno importati, conferiti a pagamento da altre province e da altre regioni dall'altro lato abbiamo voluto sottolineare che la digestione anaerobica non è un processo naturale ma è un processo che prevede dei processi industriali che sicuramente non rientrano nel concetto della tanto decantata economia circolare cioè la digestione anaerobica è finalizzata alla produzione di energia elettrica attraverso la combustione se c'è combustione per forza c'è inquinamento quindi non è un impianto a impatto zero lo stesso digestato che è il prodotto della biodigestione per poter essere utilizzato in agricoltura come compost ha bisogno di un successivo e ulteriore trattamento di tipo aerobico quindi sicuramente non è il sistema più pulito e infatti la normativa europea lo descrive come scelta di secondo livello rispetto a un impianto di compostaggio aerobico tutto qui insomma ci sembrava giusto che la gente sapesse che comunque ci sono persone che hanno rivestito dei ruoli apicali all'interno dell'amministrazione provinciale che non hanno adempiuto quelle che erano le loro competenze attribuite dalla legge regionale faccio un nome per tutti visto che sono di Tavuglia lo stesso sindaco di Tavuglia è stato mi pare fino a giugno del 2019 consigliere provinciale con delega proprio alla gestione dei rifiuti e non ho notizia che abbia fatto qualcosa di particolarmente incisivo su questo argomento vogliamo anche dire che l'attuale presidente di Marche Multiservizi Daniele Tagliolini è stato fino a poco tempo fa presidente di ATA in qualità di presidente della provincia quindi voglio dire ci sono nomi e cognomi di persone che avrebbero potuto adempiere e non l'hanno fatto Per quanto riguarda in breve anche un po' il parere dei cittadini in tanti hanno iniziato anche a raccogliere delle firme contrarie nella speranza poi che possano essere ascoltati Io penso che questo sia il nostro ruolo di amministrazione pubblica sia proprio questo ascoltare i cittadini che rappresentiamo quindi se i cittadini di questo territorio tra l'altro la motivazione che è stata più a volte espressa dal sindaco di Tavuglia che io condivido assolutamente così come la collega Di Stefani tanto è vero che la nostra mozione era proprio per dar sostegno alle rivendicazioni del sindaco e che il comune di Tavuglia è già fortemente provato dalla presenza di un impianto di una discarica e di un futuro impianto di TMB e quindi se i cittadini non vogliono perché sono giustamente anche preoccupati perché non sono stati adeguatamente coinvolti e informati se i cittadini non vogliono questo impianto a ridosso del nostro territorio penso che il nostro dovere sia di ascoltare i nostri cittadini